Buongiorno, buongiorno per la mattina, per la mattina, ma che dia più bello, molto bello, che calzone, piuttosto più bello, ma mi piace così, facciamo una bella mattina, facciamo con la pala, veloce subito, andiamo avanti, sempre avanti. L'italiano per me è più facile, è facilissimo, ricordo come si mangiava, por come si è.